pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao e benvenuto su pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici io sono francesco posati e ti do il benvenuto alla nuova puntata la puntata numero 12 come preannunciato nella coda finale della puntata numero 8 sul processo penale telematico e la digital forensics oggi inizieremo una nuova rubrica interna al podcast che chiameremo pct giovani raccontare il processo telematico e la digitalizzazione forense con gli occhi dei giovani avvocati dall'obbligatorietà del pct ci siamo molto concentrati come una certa avvocatura storica vivesse questo cambiamento e dimenticandoci invece proprio dei giovani il pct invece è un'opportunità soprattutto per i giovani i quali possono aprirsi a nuovi mercati liberati dalla catena della territorialità dove l'avvocato storico ha maggiore clientela per il controllo esercitato sul territorio nel tempo il digitale supera questi confini ma prima di ascoltare le parole del nostro ospite come sempre ringrazio tutte le persone che dedicano il loro tempo ad ascoltarmi e che mi stanno girando con commenti e suggerimenti con il loro sostegno itunes segnale il podcast tra le novità più interessanti nella sezione affari dello store e il canale telegram ha superato le 250 iscrizioni se ancora non l'hai fatto mandami il tuo commento la tua recensione su itunes permette di far conoscere ad altri utenti il podcast se sei un utente telegram puoi sostenere il canale con il tuo voto sia su t channel spot oppure su telegram italia punti t la nuova community tutta italiana per conoscere il mondo telegram cerca pct facile anche oggi abbiamo un produttore esecutivo della puntata che si è collegato su paypal punto me slash f posati lo ringrazieremo insieme io e tu al termine della puntata ultimo ma non ultimo avviso il podcast è approdato anche su spreaker punto com un altro modo per seguire pct facile oltre che su avvocato tecnologico punti t ora lasciamo la parola all'ospite della puntata che ringrazio l'avvocato damiano mereta del foro di velleitri ti allerto che la registrazione è stata fatta in presa diretta una mattina prestissimo di marzo di fronte al tribunale di velleitri buon ascolto a dopo per i saluti finali ciao damiano raccontaci prima di tutto un attimo di te ciao francesco grazie per l'opportunità è un saluto a tutti i colleghi tecnologici che seguono il tuo canale frequentatissimo io inizio la pratica nel 2005 sono studio di marino studio campeggiani possiamo fare anche pubblicità e supero l'esame nel 2008 quindi sono iscritto all'albo dal 29 ottobre 2008 e la mia esperienza si rivolge essenzialmente nel campo del civile quindi in un ambito giudiziale in cui il processo civile telematico ha fatto irruzione in maniera direi di rompente addirittura irruzione giustamente il 30 giugno del 2014 è stato anche un cambiamento di mentalità di impostazione di relazioni per quanto riguarda gli avvocati con il tribunale con l'ufficio giudiziario che prima erano abituati a frequentare regandosi personalmente come stai vivendo tu questo processo telematico ti piace non ti piace hai delle critiche io partirei da una constatazione oggettiva l'informatica sicuramente ci ha semplificato la vita in tantissimi ambiti professionali e non solo dal punto di vista essenzialmente professionale dico senza ombra di dubbio che il processo telematico è stata un'innovazione attesa di cui si è parlato per decenni che finalmente quando è arrivata ha obiettivamente comportato una facilitazione dei processi della gestione del nostro lavoro dell'organizzazione della pianificazione soprattutto come tutte le innovazioni ovviamente comporta delle difficoltà all'inizio delle difficoltà di adattamento ma a regime sicuramente porterà un efficientamento del sistema e anche della gestione dei singoli studi legali del singolo professionista come dici tu mi permetto di citarti il PCT non è un rito ma è un metodo come tutti i metodi va appreso compreso soprattutto e poi messo in atto all'interno dello studio dove sei inserito utilizzi apposte di strumentazione qui sono una gestionale come relazioni con lo strumento quindi il processo civile telematico? lo studio da quando diciamo iniziato la pratica era strutturato con ed è strutturato con un gestionale che ovviamente è stato poi aggiornato per renderlo conforme a tutte le specifiche del PCT e al di là del gestionale che consente comunque di gestire tutto il processo telematico dalla creazione ovviamente dei file alla trasmissione e all'archiviazione ovviamente ho approfondito anche l'utilizzo di sistemi alternativi come soprattutto SL PCT che trovo fantastico nel senso che consente di utilizzare comunque di provvedere al deposito telematico degli atti in maniera molto semplice e rapida e che molto spesso mi ha salvato tra virgolette ogni qualvolta il quale faceva le bizze diciamo così quindi sicuramente tutto il software open source da appunto SL PCT lo stesso Thunderbird per quanto riguarda la gestione degli inviti telematici e archiviazione dei messaggi di posta elettronica è sicuramente un aiuto fondamentale al di là dei gestionali che oltre ad avere un costo sicuramente aiutano e semplificano ma questi singoli software comunque ci consentono anche un approccio più specifico a tutte le caratteristiche del processo telematico soprattutto avvicinano l'avvocato al processo telematico sì sicuramente spesso anche dibattito di questi mesi si parla di specifiche tecniche di caratteristiche degli atti della busta telematica del singolo atto file xml eccetera quindi mentre il gestionale fa tutto in automatico e quindi diciamo ci consente da un certo punto di vista di alleggerire il nostro pensiero il peso dell'adempimento questi singoli software consente invece di avvicinarsi di avvicinarci proprio nella creazione della busta e quindi di comprendere anche poi in maniera pratica quello che leggiamo sui vari decreti solo testualmente stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici come stai vivendo questo processo telematico nel senso ti piace lo avresti modificato lo volevi più semplice sicuramente come dicevo all'inizio è un metodo una metodica che sicuramente ci sta aiutando non parlare di lacuna gli aspetti da correggere sicuramente sono molti e soprattutto in termini di certezza siamo stati appesi per diverso tempo sulle specifiche tecniche che non ci hanno consentito di notificare le copie informatiche e questo crea ovviamente incertezza che cosa ha comportato in questo caso specifico che ho citato quindi il ritorno una sorta di arretramento sulla notifica al cartacea quando invece magari non tutti sapevano che il duplicato informatico si poteva continuamente si poteva tranquillamente notificare senza nessuna attestazione eccetera l'incertezza sulle attestazioni quindi una semplificazione dal punto di vista dei diciamo corollari del processo telematico perché ovviamente estrarre un file dal fascicolo telematico e poi doverlo ulteriormente elaborare per renderlo idoneo ad un adempimento quale la notifica eccetera sicuramente ecco poteva creare diciamo appunto incertezza e comunque rallentare l'utilizzazione o comunque l'approccio quindi invece di processo telematico possiamo dire che è un processo cartamatico ancora legato a dei formalismi ma indubbiamente la storia del nostro processo è cartacea quindi porre una deadline dire da oggi in poi è tutto telematico ovviamente anche a livello mentale avrebbe richiesto uno sforzo molto eccessivo il riferimento ovviamente non è solo agli avvocati ma tutti gli operatori del processo e un pensiero e un saluto direva anche a tutti gli operatori di cancelleria ai magistrati agli ausilati del giudice quindi ovviamente il processo telematico quando sarà veramente a regime sarà una grande innovazione è un grande aiuto per tutti ma per essere tale dovrà porre in grado tutti gli operatori di lavorare all'unisono e in maniera complementare mi riferisco ad esempio al doppio binario che ancora oggi consente ad esempio il deposito degli atti introduttivi in cartaceo e telematico quindi già è vero ci stiamo avvicinando ormai al completamento nel processo telematico ma ecco questo doppio binario crea ancora una piccola discresia in via ovviamente ormai di definizione quindi la gestione del cartaceo l'approccio cartaceo nella mente di alcuni di noi è ancora ineliminabile in prospettiva dovrà però essere assolutamente superata anche dai colleghi più esperti non li chiamo più anziani ma più esperti che hanno ovviamente magari maggiori difficoltà nell'approccio con la tecnologia perché perché spesso viene delegata da altri ai collaboratori alle segretarie mentre invece il processo telematico questo credo sia un aspetto da approfondire responsabilizza di più l'avvocato perché prima col cartaceo sì la segretaria preparava il fascicolo l'avvocato lo ripeteva il telematico comporta un'assunzione di responsabilità diretta da parte del professionista sia per l'utilizzo della firma digitale sia per l'utilizzo della posta elettronica certificata è certo assolutamente soprattutto l'utilizzo della firma digitale che crea un collegamento indiscutibile ineliminabile con il titolare e include a mio modestissimo parere qualsiasi possibilità di delega nell'utilizzazione anche se poi oggettivamente è chiaro che la gestione della mole di lavoro e dei singoli adempimenti determina ovviamente il fatto di doversi a valere di collaboratori che sia la segretaria o il collaboratore professionista quindi responsabilizzazione facilitazione sicuramente questo è il futuro insomma e consapevolezza è assolutamente consapevolezza è quello che dicevo anche prima nel senso che il PCT in quanto metodo va appreso e compreso e poi messo in atto Stai ascoltando PCT Facile il primo podcast per avvocati tecnologici Voi nel vostro studio per tutti quanti i depositi che state facendo i documenti i file digitali nativi che state generando e state inviando il tribunale avete adottato anche un sistema di conservazione digitale a riguardo per preservare il valore legale nel tempo oppure ancora c'è una gestione tra virgolette domestica interna salvata nel caso su un hard disk locale o nel caso su un asso o una partizione cloud Allora al momento l'iviazione è delegata al gestionale per larga parte diciamo delle pratiche dello studio in maniera sperimentale sto adottando strumenti diciamo più tradizionali oggettivamente ancora il vecchio caro hard disk e sto approfondendo il discorso del cloud anche quello ovviamente è il futuro non ho ancora trovato la quadra tanto per fare un collegamento ma ci sto lavorando Damiano, giovani e processo telematico i colleghi giovani come si rapportano con il processo telematico? Per quella che è la mia esperienza spaderei il mito dell'equazione avvocato giovane e avvocato telematico purtroppo non è così tanti giovani colleghi, i miei coetani ma anche più giovani non hanno un approccio al processo telematico come credo debba essere la tecnologia magari viene utilizzata più per altri fini ma legata poi alla professione viene spesso trascurata questo perché la formazione di noi giovani avvocati magari si è svolta presso studi più tradizionali e quindi il concetto che deve passare a mio avviso è proprio questo cioè noi giovani avvocati dobbiamo essere tramite attraverso cui i professionisti magari meno propensi all'approccio telematico possano finalmente convincersi che la tecnologia, l'innovazione, l'informatizzazione e il processo telematico sono ormai la via irreversibile per la gestione dei processi e un ammodernamento definitivo della nostra giustizia Ti ringrazio Damiano Grazie a te, un saluto a tutti i colleghi telematici continuate a seguire il canale di Francesco Posati PCT Facile molto interessante e foriero di grandissime formazioni Consapevolezza, responsabilità e gestione integrata dello studio legale nel PCT sono le vie irreversibili per la gestione dei processi come ci ricorda in chiusura Damiano Mereta che ringrazio del suo contributo e per la chiosa finale inaspettata e assolutamente non concordata I giovani devono essere il tramite attraverso cui tutta l'avvocatura si ammodernizzi e si apra alle nuove dinamiche tecnologiche il PCT non esclude, anzi è l'opportunità per creare nuove collaborazioni il processo telematico è la nuova frontiera dei rapporti lavorativi basati sulla condivisione di conoscenza su larga scala dove si uniscono le competenze dei giovani avvocati con le conoscenze degli avvocati anziani anche la giustizia digitale è toccata dal crowdsourcing che sta rivoluzionando l'economia mondiale fammi sapere però anche la tua opinione siamo arrivati ai saluti finali il produttore esecutivo della puntata è Francesco Spinucci che ringrazio del suo contributo un ringraziamento va anche a Marco Duke per il suo commento sul sito T Channel Sbotta troppo gentile se vuoi dare anche tu un parere sul canale Telegram PCT Facile trovi i link per lasciare la tua recensione al prossimo appuntamento io sono Francesco Posati e ti ricordo che viviamo il futuro digitale ciao